Allora, intanto grazie come sempre a Le Village per consentire questi appuntamenti che trovano sicuramente il riscontro di molte persone che apprezzano i contributi che riusciamo a dare. E oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di crowdfunding, in particolare di quanto si è cambiato nel corso degli ultimi anni, quali sono i numeri che ha raggiunto nel 2019, come sta evolvendo. Quindi faremo un po' una panoramica su tutto ciò che può riguardare andare in campagna e soprattutto in equity crowdfunding e poi capiremo quali sono le varie metodologie, vari modi, le varie attività che devono essere svolte al fine di poter arrivare a fare una campagna di crowdfunding efficace. Allora, vediamo che siamo già... qualcuno si è collegato, aspettiamo giusto qualche secondo in più e poi iniziamo. Ma intanto vado a condividere le slide. Ok, credo che le vedete. Fatemi anche sapere se mi sentite bene, così almeno... Ciao Valentino, piacere di ritrovarti. Spero mi sentiate bene. Benissimo, benissimo. Allora, iniziamo un attimino a vedere di che parliamo oggi. Allora, giusto due parole su di me, anche se molti, insomma, di voi... Ciao Rosa, piacere di trovare anche te. Molti di voi sicuramente già mi conoscono. Sono laureato in scienza di informazione. Ho iniziato, diciamo, la mia carriera in IBM, appena diplomato, avevo appena fatto 19 anni. Sono rimasto circa due anni in IBM, dopodiché stavo un po' stretto, avevo altre ambizioni e ho deciso di licenziarmi. Ovviamente andando un po' contro famiglia, un po' contro tutti e anche perché l'IBM all'epoca, quindi parliamo di... oltre 20 anni fa, era sicuramente l'azienda più desiderata in assoluto da qualsiasi ragazzo. Era un po' la Apple di oggi, per capirci. E decido di aprire la mia prima startup con un compagno di università. Un'esperienza bellissima perché a 27 anni riusciamo a vendere tutto negli States, ne facciamo un exit in USA e riacquistando, peraltro, anche parte delle quote di questa multinazionale e ci aveva comprato, che era la Vertex Interactive Incorporation, e rimaniamo due anni quotati in Nasdaq con loro. Dopodiché ho continuato facendo uno spin-off, costituendo un'altra realtà in ambito cyber security, con cui ho fatto un exit nel 2011, e poi una terza, con cui ho fatto un exit nel 2014, sempre nel mondo, diciamo, IT. Dopodiché ho iniziato la mia attività da business angel, quindi ho cominciato ad investire invece su idee altrui, quindi su startup, aiutandole nelle fasi proprio di crescita, di posizionamento e di scale-up, con un paio di operazioni che sono andate, peraltro, molto bene. E negli ultimi due anni ho messo in piedi una nuova realtà che si chiama Agronettia, che peraltro abbiamo lanciato proprio come brand la settimana scorsa, con la quale eseguiamo, tramite dei percorsi di incubazione, pre-accelerazione e accelerazione, tutto ciò che è startup e che parte dal presid. Sono, peraltro, autore di un libro che si chiama The Startup Canvas, che racconta un po' tutte quelle sono le metodologie, lean, design thinking, cioè le metodologie da applicare per poter crescere in maniera sostenibile con una startup, e poi parla del metodo, quindi dello strumento strategico che ho ideato, che si chiama proprio The Startup Canvas, che è un canvas proprio per le startup. Cosa affrontiamo oggi? Innanzitutto che cos'è il crowdfunding? Quindi per andare a capire un po' in dettaglio quali sono le differenze, le tipologie di crowdfunding, con particolare, diciamo, evidenza su reward ed equity. Poi vediamo un po' le piattaforme principali, perché molti ancora fanno confusione tra su quali andare, quali funzionano meglio, quali funzionano peggio. Come si può raccogliere? Quali sono le modalità di raccolta? Perché è vantaggioso il crowdfunding? Poi vediamo come si struttura una campagna, quindi come andare in campagna. Al che tempo fa abbiamo fatto un altro webinar su come creare un business plan efficace per una campagna di crowdfunding, o con tutte le, diciamo, caratteristiche che deve avere. Oggi vediamo come si struttura la campagna. Poi vediamo un po' di differenze tra venture capital ed equity crowdfunding, e poi vediamo gli strumenti, al fine, che vanno utilizzati per strutturare una campagna e renderla sicuramente di successo. Innanzitutto partiamo da che cosa è il crowdfunding. Ma diciamo intanto è nato in Australia e negli Stati Uniti come fenomeno, ed è un fenomeno, diciamo, che ha un carattere sicuramente a livello di, diciamo, economico-sociale, molto legato al crowd, quindi al pubblico, alla community. Perché quello che fa il crowdfunding essenzialmente è, tramite un sito internet, che è un portale, quindi una vera e propria piattaforma, dà la possibilità di caricare la propria idea progettuale su questo sito e dare la possibilità, quindi, a persone del crowd, quindi del pubblico, quindi consumer, di potersi collegare, analizzare i progetti caricati e poter investire denaro durante un periodo limitato, che è il periodo della campagna, sostenendo il progetto tramite del fan racing. Chiaramente in ogni country il crowdfunding è stato normato. In Italia è stato normato dalla Consob, che ora vedremo dal 2012. Quali sono, innanzitutto, le tipologie di crowdfunding? Diciamo che le principali possono essere queste quattro che vi ho elencato, poi ci sono delle altre. Diciamo, c'è il donation-based, ossia dove le donazioni sono finalizzate ad iniziative che non hanno scopo di lucro, quindi dove non andiamo a ricevere nulla in cambio nel momento in cui andiamo a donare. Quindi sono dei modelli che lavorano per charity, per beneficenza, per opere pubbliche, quindi tutto ciò lo andiamo a raccogliere senza dover dare effettivamente in cambio o azioni o reward o qualsiasi altra cosa che l'utente che dona deve ricevere. Poi abbiamo il reward-based, che invece è un modello attraverso il quale si viene a ringraziare colui che dona una somma dandogli un prodotto, un servizio, quindi quello che è una ricompensa. Quindi faccio un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo da lanciare un nuovo wearable, quindi un wearable, un orologio digitale, nuovo, che ha tutta una serie di caratteristiche innovative, ma non abbiamo i soldi né per mandare avanti la prima produzione, ma abbiamo comunque un prototipo molto bello da far vedere, tutto quello che può essere l'innovazione di prodotto che portiamo e vogliamo raccogliere dei soldi. Che cosa si fa in questo caso? Facciamo finta che il wearable lo vogliamo mettere sul mercato a 200 euro. Facciamo finta che questo wearable ci costerebbe 20 euro nel momento in cui andiamo in produzione, quindi il costo of good, però chiaramente quando andiamo a portarlo in Cina per poter acquistare a 20 euro la prima produzione, ci chiedono almeno uno stock di mille pezzi. Quindi ci servirebbero 20 mila euro per poter avere la prima produzione. Che cosa accade? Noi ne abbiamo i 20 mila. Quindi possiamo andare in una piattaforma di reworkrofunding, lanciare questo wearable invece che a 200 euro, che è il prezzo finale, a 100 euro, a un 50% di rebate. Quindi chiunque si collega su questo portale potrà vedere che il prezzo è di 200 dollari, è di 200 euro, noi lo stiamo però dando a tutti coloro che vogliono a 100 euro. Quindi chiunque mette 100 euro otterrà dopo sei mesi questo wearable a un prezzo che è il 50% più vantaggioso rispetto al prezzo finale di mercato. Cosa avviene? Noi raccogliamo, immaginiamo che raccogliamo 100 mila euro, bene, questi 100 mila euro, 20 mila saranno utilizzati per mandare in produzione questo oggetto che poi quando ci ritorna verrà mandato ed inviato a ognuno dei baker che ha effettivamente finanziato i suoi 100 euro e gli altri 80 mila che ci restano serviranno per mandare avanti l'azienda e farla crescere. Quindi questo è quello che avviene. Io non ho, diciamo, diluito quote, quindi le quote dell'azienda sono rimaste tutte nelle mie mani, ma di contro ho dato indietro dei prodotti. Quindi ho fatto branding, quindi il reward funziona molto bene perché ho cominciato a vendere il prodotto, ho avviato l'azienda, ho fatto la mia prima produzione, mi sono messo in tasca anche dei soldi. Io ho anche dei primi readopter, dei primi clienti veri che mi danno anche un feedback sul prodotto. Quindi è un sistema che funziona molto, molto bene. Poi vedremo, diciamo, tra le piattaforme sicuramente più famose sono Kickstarter, Indiegogo, sono le due più note che sicuramente tutti conoscete. Poi abbiamo il landing-based, ossia è una forma di prestito, quindi dove abbiamo qualcuno che presta dei soldi e dall'altra parte è quello che riceve questi microprestiti. Chiaramente in questa forma ci sono anche le piattaforme immobiliari, pensate ad esempio a Wallians in Italia, che è una piattaforma di landing-co-funding, quindi una piattaforma in cui si possono costruire, diciamo, opere immobiliari sfruttando microprestiti da gente che crede in quel progetto. E poi abbiamo l'equity-based, quindi le piattaforme di equity-co-funding, che sono quelle che tutti noi un po' conosciamo in assoluto. In Italia, ad esempio, le più famose sono Mama Crowd, CrowdFoundMe, 200 Crowd, Upstack, ce ne sono svariate, Backwork24, che sono tutta una serie di piattaforme in cui, in cambio di denaro, noi diamo quote della nostra società. Quindi non dobbiamo produrre nulla, dobbiamo trovare chi crede nel nostro progetto, e noi diamo delle frazioni di quote in cambio di denaro, quindi di un aumento di capitale che ci porta denaro liquido all'interno delle nostre casse. Questo per capire un po' le quattro tipologie più importanti. Il modello equity-based, come dicevo prima, è stato normato in Italia, e il regolatore che in Italia gestisce e disciplina le regole attraverso cui funzionano le piattaforme di crowdfunding è proprio la Consob. La regolamentazione della Consob rispetto al crowdfunding è stata, diciamo, sistemata nel 2012, tramite un decreto, che è proprio il 179 del 2012. Vediamo quali sono la lista delle principali piattaforme. Allora, sicuramente in Italia in questo periodo ne sono cresciute molto, insomma, dal 2012 ad oggi. Molte sono silenti, quindi, diciamo, sono completamente ferme. Altre, invece, hanno cominciato ad avere e dare dei risultati importanti. Tra queste troviamo, sicuramente, le quattro che vedete, che sono Mama Crowd, 200 Crowd, Crowd4Me. Crowdcube non è italiana, è una piattaforma che opera in tutta Europa ed è un po' una delle più grandi. E tra cui in altre d'Italia, invece, abbiamo, dicevo prima, Hop Start, Back to Work 24 e tante altre. Però, sicuramente, queste sono le più note dove, diciamo, otteniamo anche le raccolte più importanti. So, su Mama Crowd dello scorso anno, il 2019, c'è sempre quella di Startup Italia, che ha raccolto 2 milioni e 8, cioè, una piattaforma, diciamo, una raccolta molto interessante. Abbiamo avuto raccolta anche superiori ai 3 milioni quest'anno. Quindi, diciamo che cominciamo ad avere dei dati e dei numeri che si avvicinano un po' al mercato UK, che fino a due anni fa era veramente qualcosa di irraggiungibile. Anche se oggi ancora stiamo a, almeno uno o due ordini di grandezza diversi in quanto raccolta e il numero di campagne effettuate nel corso dell'anno. Per quanto riguarda invece le piattaforme di reward, sicuramente le due più interessanti e più importanti sono Kickstarter e Indiegogo. Kickstarter sicuramente premia perché ha un livello qualitativo maggiore, quindi fa un po' più di selezione, diciamo, un po' più strutturata. Indiegogo fa meno selezione, quindi hanno un po' anche un livello di successo leggermente inferiore a Kickstarter. E poi abbiamo Apple, anche quella che vedete con le due P. Apple e crowdfunding, che invece è italiana, quindi è una delle poche italiane che abbiamo di reward crowdfunding che peraltro funziona anche abbastanza bene con dei valori che continuano a crescere di anno in anno con successo. Per quanto riguarda Kickstarter, come potete vedere qua, questi sono i dati riassunti fino allo scorso anno e come vedete circa il 69% delle campagne ha avuto successo, quindi possiamo dire che i risultati stanno migliorando di anno in anno, per cui sta funzionando molto bene e sta dando sicuramente, essendo arrivati quasi al 70%, vuol dire che ha anche un tasso di successo e quindi con riscontri molto molto positivi. In genere, la strategia si utilizza su Kickstarter, Indiegogo e quella di andare in campagna su Kickstarter, se si ottiene una campagna di successo, si fa il mirror e si ripresenta subito dopo qualche mese anche su Indiegogo. Generalmente, questo schema porta ad avere due campagne di successo e fare due round successivi uno vicino all'altro, quindi anche questa è una strategia che posso consigliare. In Italia, però, diciamo che fino al 2018 era tutto fermo, cioè veramente le raccolte erano bassissime, diciamo, 2018 parliamo di scassi 30 milioni di raccolta, le campagne erano poche, anche, diciamo, i valori di raccolta non erano molto alti. Vi dico anche qualche dato statistico, in Italia, calcolate che il ticket medio sulle piattaforme di crowdfunding a oggi si attessa intorno ai 3.300 euro, però calcolate che è drogato questo ticket medio perché nel ticket medio che viene, diciamo, che viene dato un po' da tutti i report che leggiamo, ci sono dentro anche gli investitori istituzionali che fanno parte insieme a quelli professionali della raccolta di quelle campagne, per cui immaginiamo che io ho una campagna in cui partecipano 500, diciamo, investitori di tipo consumer che investono 300, 200, 500 euro, 600 euro e poi abbiamo un investitore istituzionale che mette magari 200 mila euro e un paio di investitori professionali che mettono 50 mila a uno e 25 mila all'altro. È chiaro che quei tre nella curva ABC della dell'investimento magari prendono circa metà dell'investimento, l'altro metà è suddiviso fra magari 300, 400 investitori che mettono 300 euro l'uno. Quindi questo vi fa capire che chiaramente è quello che fa alzare il taglio medio. Se andiamo comunque sul consumer diciamo mediamente ci troviamo tra i 300-500 euro che è un po' quello che investono diciamo i privati, le persone diciamo normali che vengono coinvolte nelle piattaforme di crowdfunding quindi un po' il cittadino che si interessa entra un po' curioso e ha 500 euro da messi da parte e prende e mette in una campagna proprio perché convinto più che altro dal video, convinto dalla lending. Pensate questa è un'altra statistica che il 70% delle campagne chi investe nelle campagne di crowdfunding legge esclusivamente cioè vede esclusivamente il video e va a vedere la lending quindi non va oltre neanche apre il business plan non va a indagare sui dati legati alla società al team al prodotto quindi si fa solamente diciamo influenzare dalla parte di comunicazione stop pensate il 70% viceversa se andiamo sull'investitore professionale ti chiede tutto quindi vuole conoscere ti vuole parlare con te ti viene anche a trovare vuole avere un business plan vuole avere il business plan di dettaglio quindi non quello caricato in piattaforma ma quello con tutti i dati strategici quindi sono proprio due tipologie di investimento completamente diverse come funziona vediamo qualche dato del 2019 questi dati con il riassunto dello scorso anno innanzitutto dai 30 milioni nel 2018 siamo passati a 65 milioni ne abbiamo preinte raddoppiato e presi preinte da nuove piattaforme e hanno investito tantissime persone e in particolare hanno fatto circa 400 campagne quindi diciamo che siamo saliti di tantissimo rispetto all'anno precedente ma Magrado da solo ha fatto 14 milioni di raccolta Crowd4me che peraltro è quotata ne ha fatti 13 e Wallians è ben 35 chiaramente Wallians essendo l'ending crowdfunding come vi dicevo lavorando su progetti immobiliari è facilitata perché chiaramente chiunque ha qualche soldo da metterci sopra lavorando poi nell'immobiliare che ben sapete tutte le problematiche che ha oggi chiaramente tramite Wallians trovi un'altra via per poter investire per cui ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi tre anni quindi dati sicuramente incoraggianti ma ancora molto lontani dai dati che fanno Crowdcube o comunque altre piattaforme diciamo che lavorano in Europa o addirittura se andiamo negli States troviamo dei dati ancora di un ordine di grandezza superiore perché è importante andare in crowdfunding allora generalmente le raccolte nel momento in cui andiamo a fare un round si possono fare o tramite le piattaforme di crowdfunding oppure andando a operare con dei VC di venture capital quando si va con dei fondi che cosa avviene il fondo arriva ti mette anche una governance spesso abbastanza forte all'interno del tuo azionariato quindi viene un po' influenzare le tue decisioni la governance spesso rallenta il modo in cui la startup dopo l'investimento si continua a muovere e peraltro c'è tutto un leader abbastanza lungo di due diligence che dura mai meno di sei mesi e una volta che poi è entrato diciamo nel capitale hai questo socio abbastanza imponente con cui devi condividere il tuo progetto futuro viceversa il crowdfunding ti lascia molta libertà anche perché chi entra spesso entra con quote di tipo B per cui non hanno diritto di voto eccetera ma ti interessa solo capire quando andare a fare l'exit due ti dà anche visibilità perché durante il periodo di campagna se la campagna va bene oltre che aver raccolto il denaro hai avuto un'enorme visibilità a livello mediatico perché durante i due tre mesi di campagna quindi durante tu hai avuto eventi hai organizzato una serie di attività di comunicazione e marketing molto imponenti sul territorio per cui questo ti dà una visibilità che il fondo invece non ti porta minimamente ad avere quindi parlando di quello che è la governance parlando del fatto che non hai poi influenze particolari nell'azionariato parlando del fatto che si aggiunge anche la visibilità diciamo che il crowdfunding oggi lo consiglio moltissimo in particolare proprio l'equity crowdfunding chiaramente andare in crowdfunding che però non è una cosa così semplice perché? perché le piattaforme ti chiedono una serie di vincoli cioè devi avere diciamo dei requisiti altrimenti non puoi andare in piattaforma quali sono i principali? il primo devi avere traction se non hai traction in Italia nessuno ti carica su nessuna piattaforma che cosa intendiamo per traction? è la tua capacità di crescita esponenziale dimostrabile in maniera oggettiva facciamo un esempio hai un fatturato che cresce di mese in mese è oggettivo basta scaricare un bilancio dei libri contabili un partitario IVA quello che può essere comunque sei in grado di dimostrare che il fatturato è quello oppure magari hai una crescita in termini di utenti magari non stai ancora fatturando però hai degli utenti che ti magari creano degli ordini che tu devi in qualche maniera può evadere che ogni mese aumentano e tu magari hai la produzione che ti arriva fra tre mesi e fra tre mesi inizierai a fatturare però hai già ordini che crescono in maniera esponenziale ecco tutto ciò che è traction è una delle caratteristiche requisiti fondamentali per andare in piattaforma due deve avere un team molto valido con un prodotto che sia innovativo di avere una unique value proposition cioè una UPP che sia veramente forte unica e differenziante in maniera molto semplice rispetto al mercato deve essere poi qualcosa che deve colpire ed essere facilmente trasferibile alla community al crowd cioè nel senso se c'è un progetto molto complesso che non riesco neanche a raccontarlo in poche parole probabilmente non è adatto al crowd viceversa sono qualcosa che è comprensibile cioè diciamo a livello di mercato è facile capire che cosa fa quella startup probabilmente può essere adatto al crowdfunding ultima caratteristica fondamentale è il pre-commitment che nessuno lo racconta però è d'obbligo ossia tutte le campagne voi sapete hanno un minimo e un massimo da raggiungere immaginiamo che io voglia fare una campagna in cui voglio raccogliere da 300.000 a un milione ciò vuol dire che se io non raccolgo almeno 300.000 la campagna non è andata bene cioè dovrei restituire indietro tutti i soldi che ho raccolto in quei due mesi di campagna viceversa se supero i 300 mi va benissimo e posso arrivare fino a un milione perché quello è l'aumento di capitale che ho diciamo deliberato per la campagna cosa succede? quando io vado a bussare le porte di una piattaforma e dico guarda io voglio fare questa campagna che va da 300 a un milione questa è la mia start up è figo tutto piace tutto ma se io non ho un pre-commitment cioè non ho già un certo numero di investitori da presentare alla piattaforma che hanno già dato l'ok ad investire per un valore che è più o meno quello dei 300.000 la piattaforma non ti carica perché? perché rischia che se quella campagna non riesce a raccogliere nelle prime 24 48 ore quei 300.000 la campagna poi va male perché c'è una statistica che potete trovare ovunque che dice che se nelle prime 24 48 ore non è almeno superato cioè non è andato in overfunding sul minimo della raccolta prevista probabilmente quella campagna non raccoglie più nulla e questo lo vedete da tutte le campagne cioè quelle che vedete dopo una settimana 15 giorni che ancora stentano ad arrivare al minimo quelle campagne spesso non ci arrivano proprio al minimo e non trovano neanche l'investitore professionale quindi muoiono lì perché il 5% di ogni campagna di crowdfunding è di avere un investitore professionale se non ce l'hai anche se raccolto 10 milioni d'euro quella campagna non può andare in diciamo diventare una campagna di successo cioè non può essere deliberata e chiusa quindi è importante diciamo avere già il pre-commitment motivo per cui le piattaforme ti richiedono almeno che il grosso del pre-commitment sia già coperto loro chiaramente fanno uno scouting interno nel loro networking per capire più o meno se c'è interesse per quel tipo di startup senza ancora mandare nulla di ufficiale perché non si può fin quando non parte diciamo ufficialmente la campagna e dopo di che ti danno l'ok e quindi vanno in delibera e ti danno l'ok questa è una cosa importantissima perché spesso ci capitano startup vogliono andare in campagna ma non hanno niente quindi bisogna fare prima questa attività e dopo andarsi a proporre come si struttura una campagna? allora come dicevo prima la prima cosa a fare è stabilire qual è l'obiettivo minimo e massimo come si stabilisce? in base all'analisi dei business plan quindi si fa un business plan si cerca di capire qual è diciamo l'importo l'esigenza di cassa di cui si ha bisogno per rispettare quel piano industriale e quel piano di sviluppo che noi abbiamo in mente e si deve fare con un'analisi what if cioè ipotesi A ipotesi B scenario A scenario B scenario A è quello minimo quindi io devo dire se raccolgo i 300.000 cosa vado a fare quali sono gli obiettivi che vado a raccontare diciamo ho come goal da raggiungere nell'arco dei primi 24 mesi nell'arco dei primi 36 mesi bene devo raccontare come spendo quei 300.000 quindi l'utilizzo che faccio dei fondi a cosa mi servono e quindi che obiettivi voglio raggiungere scenario B se invece ho un milione quindi più di tre volte il valore dell'obiettivo minimo cosa andrò a fare e vi li vai a raccontare come vai a spendere quei fondi e quali sono gli obiettivi che ti sei prefisso di raggiungere quindi sicuramente devi fare questa analisi what if per dare evidenza ai crowd cioè a chiunque va a investire di cosa vuoi ottenere quindi anche per dare una evidenza oggettiva di quello che vuoi fare come funziona? quindi si parte dalla fase 1 che la fase di analisi quindi si completa come dicevo il business plan si seleziona la piattaforma su cui si vuole andare a lavorare chiaramente si parla con la piattaforma perché bisogna capire anche se la piattaforma è disponibile a riceverti con tutti i requisiti che ho raccontato prima si fa un pitch un pitch sia ad impatto a livello grafico ricordate anche che sulle piattaforme viene caricato un pitch che è una sorta di executive summary del business plan di circa 20 slide e poi c'è un business plan di quasi 100 pagine che viene generalmente poi dato agli investitori professionali ideale è che poi vi troviate anche un advisor che vi certifichi tutta questa roba quindi vi certifichi la vostra pre-man evaluation vi certifichi il business plan e metta il suo bollino con un advisor o terzo chi legge quella roba capisce che non ve la siete cantata e suonata ma c'è un terzo che ha certificato e ha messo la sua faccia sui vostri numeri per cui è molto più autorevole poi devono essere fatti dei video non è uno sono tre poi vedremo più avanti quali sono i tre video e sono fondamentali senza quelli calcolare come vi ho detto prima il 70% del successo della vostra campagna è data proprio da quei video per cui fateli bene e spendete quanto più possibile sui video e vi ho fatto un bel piano di branding e di comunicazione integrato cioè di lavorare su eventi offline public relation quindi tutto ciò che riguarda diciamo le testate blog influencer marketing social quindi tutti i social media dem cercate di ottenere interviste cioè ci sono tante 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 attività che devono essere gestite in un piano di comunicazione integrato che faccia branding e vi porti ad avere parecchie persone interessate che potete contattare e parlarci una per una per portarle a convertire all'investimento si fa la fase 2 si avvia quindi si comincia a inviare le newsletter si comincia a creare la community perché in quel periodo devi creare una vera e propria community che poi ti fa per te perché la community se uno investe ti racconta all'amico calcolate che durante le campagne il referral è chiave è veramente chiave altra cosa ad esempio cercate di inserire sempre anche se lavori su una campagna di equity crowdfunding è un reward non tutti lo sanno cioè se io ho un'azienda che vende dei prodotti e io vado a lavorare a livello di comunicazione su chi può interessare il mio prodotto e io do anche un reward faccio un esempio sconto il 50% a chi investe nella startup almeno 500 euro a uno sconto del 50% sull'acquisto dei miei prodotti che cosa avviene? e quando io vengo a investire 500 su una startup e tu hai un prodotto che costa 200 euro io mi trovo anche uno sconto di 100 euro quindi sono ancora più incentivato perché? perché sono in target anche col tuo prodotto o servizio e quindi tu oltre ad aver trovato l'acquirente ti sei portato in casa un fan e in più hai fatto pure fatturato quindi hai avuto tre vantaggi e quel fan parlerà di te un terzo perché ha la possibilità di comprare quel prodotto a un prezzo scontato e quindi coinvolge un terzo quindi questa tecnica che oramai viene utilizzata moltissimo cioè sono almeno una campagna su due una campagna su tre porta dentro una tecnica di reward anche in equiti abbiamo visto crea dei moltiplicatori molto più elevati poi vanno organizzati tutti gli eventi cosa fondamentale perché oggi le campagne di crowdfunding sono ferme per due motivi sotto il periodo covid uno perché tutta la parte offline è ferma e l'organizzazione degli eventi è chiave durante una campagna di crowdfunding secondo perché tutti gli investitori si sono fermati per l'incertezza dei mercati cioè non si sa oggi quali sono i settori che andranno bene e andranno avanti quali sono i settori che si fermeranno come riemergerà come rinascerà il mercato diciamo in fase tre quindi c'è tutta una situazione di incertezza generale che ha fermato tutto ciò che sono gli investimenti vi posso dire che da circa una settimana cioè dal 25 di maggio cioè da l'unedì o qualche giorno prima della scorsa settimana abbiamo cominciato a rivedere un leggero movimento quindi anche a me sono arrivate delle richieste roba vi parlo proprio veramente di 4-5 giorni ma per tre mesi era stato tutto completamente fermo poi mi ha creato un piano di social media management perché sui social bisogna lavorare molto molto bene serve proprio un community manager cioè va gestito bene perché sui social è dove voi otterrete sicuramente l'engagement maggiore affidatevi generalmente a un'agenzia stampa vi cura il comunicato stampa ben fatto articoli su riviste di settore quei due mesi dovete lavorare veramente in una maniera top e poi individuare i primi soggetti interessati cioè il discorso che dicevo prima la fase di pre-commitment che è chiave perché senza quella non partite proprio quindi questa fa parte proprio di questa fase iniziale si fa poi il lancio e lancio la fase 3 quindi si comincia con l'advertising eventi si fa una conferenza stampa l'ufficio stampa che lavora in maniera regolare c'è un ufficio generalmente che è una sorta quasi di call center che ricontatta tutti quegli interessati e cerca di portarli a convertire si attiva un funnel quindi un funnel che noi utilizziamo il funnel dei pirati andando a monitorare quotidianamente tutte le stelle metriche cioè l'awareness l'acquisition l'activation revenue referral e retention tutte e capire dove stiamo andando bene dove stiamo andando male ogni settimana si rielabora assolutamente tutto il piano capire le campagne che funzionano quelle che convertono meglio o che convertono peggio si raccolgono i lead e poi si fa il retargeting il retargeting ovviamente lo fate come dicevo prima telefonico si fa per email o sfruttando qualsiasi sistema che può essere anche un retargeting fatto tramite le piattaforme di marketing automation o piattaforme comunque automatiche che lavorano sul digitale poi c'è la fase 4 quella di monitoraggio e comunicazione quindi qui si fa una comunicazione post chiusura campagna questa anche per informare tramite un ufficio stampa gli investitori i media tutto quello che è accaduto e quindi questa dà ulteriormente positioning e branding alla start-up si fa un follow-up sugli investitori e poi si lavora periodicamente a meno una volta al mese poi si passa una volta a trimestre verso gli investitori cioè bisogna comunicargli sempre i traguardi raggiunti gli obiettivi se ci sono criticità metteteli al corrente chiaramente disallineamenti questo perché perché fate capire all'investitore che non lo state prendendo in giro cioè gli state dicendo sia le cose belle che le cose brutte lui si sente comunque sempre allineato e questo fa sì tramite gruppi telegram generalmente o comunque tramite le newsletter interne con dei gruppi chiusi e sono sempre tutti allineati su quello che sta avvenendo perché comunque è gente che ha investito anche piccole somme ma crede nel progetto e soprattutto nel team cosa succede agli investitori se si oltrepassa invece la soglia cioè andiamo in overfunding allora molto velocemente ci sono varie diciamo situazioni però per farla breve chi ha pagato entro i famosi 14 giorni ha chiaramente una precedenza quindi se io l'ho fatto ha una precedenza rispetto agli altri se non l'ho fatto no se è stato dato conferma mentre l'offerta non era in overfunding però non è effettuato il bonifimo nei 14 giorni perdi la precedenza però sei ancora in tempo per convalidare la tesione e così ci sono i vari casi che ho un po' qui riassunto però diciamo che tecnicamente cercate sempre se potete investire nei 14 giorni avete di tempo effettuato il bonifico in maniera di rimanere assolutamente nella lista non andare nella lista di attesa riguardo la differenza tra VC e piattaforme come vi dicevo prima è molto meglio andare in equity crowdfunding peraltro c'è questo report che è stato pubblicato che dice proprio che a parità di investimento chi investe nelle piattaforme di crowdfunding riesce a ottenere una accolta maggiore quindi c'è meno quote per cui è meglio diciamo andare in crowdfunding quindi a parità di investimento ho ceduto meno quote quindi a parità di quote ho ottenuto più denaro questo perché tutti i motivi che vi ho raccontato prima che rendono molto vantaggioso l'equity crowdfunding rispetto al classico venture capital questi sono gli strumenti per strutturare una campagna in maniera corretta allora qui vi ho ripetuto di nuovo quello che vi raccontavo prima il 70% degli investitori guarda solo video e home page quindi pensate quanto sia fondamentale investire su questa parte di comunicazione di solito però un video non basta come dicevo prima ne servono almeno tre ossia ne serve uno che parla di te del CEO e della tua startup perché chiunque dall'altro lato vuole vedersi raccontare una storia e la storia è la tua storia quindi di raccontare di te come sei nato come hai creato la tua startup dove vuoi arrivare trasmettere la tua vision e tutto questo va fatto in maniera molto empatica perché comunque l'empatia è quello che porta dall'altro lato l'investitore a credere a te nella tua persona nel tuo progetto poi bisogna avere un influencer pensate al diciamo al successo di startup Italia è partita aveva da fare 500.000 euro loro avevano fatto un aumento di capitale per 500.000 euro a un certo punto hanno ingaggiato Marco Montemagno e ha cominciato questa campagna a decollare 160 giorni è arrivata a 2.800.000 e hanno dovuto rifare in corsa un altro aumento di capitale e di altri 2.500.000 quindi avevano portato fino a 3 da 500.000 che erano per poter gestire tutti questi investitori che stavano entrando che non si aspettavano minimamente quindi a sua mente portato un influencer dentro ti cambia completamente la situazione della campagna e poi bisogna avere il video che parla del tuo prodotto perché poi ci sono i tecnici che vogliono capire effettivamente ma che mi sta vendendo a parte le belle parole te l'influencer fatemi capire qual è il tuo valore aggiunto la tua unique value proposition perché sei diverso da tutti gli altri e quindi il video del prodotto è altresì fondamentale e questi tre video devono girare H24 ovunque sui social pubblicità advertising ovunque sia possibile e questo non fa altro che far parlare di te e convincere man mano gente a credere nel tuo progetto altra cosa importante è stabilire il corretto ammontare della somma da richiedere come vi dicevo prima fatevi seguire sempre un advisor fatevi strutturare un corretto business plan e soprattutto fatevi dare una corretta pre-man evaluation perché perché la pre-man evaluation assoluto vi dà una valutazione corretta del vostro progetto cioè generalmente in campagna non superate mai 5 milioni abbiamo visto che di media quando vai oltre 5-6 milioni rischi che poi diventa difficile raccogliere a meno che non hai dall'interno un fondo un fondo di venture che dà autorevolezza al progetto ad esempio sono state le campagne l'anno scorso so prendete i light aveva 25 milioni di pre-mani ma aveva dentro degli investitori istituzionali importanti per cui riuscite a raccogliere a chiudere la campagna se tu con un po' difficoltà ma la chiusa bene però aveva una pre-mani molto molto alta altra cosa evita di diluire troppo perché perché se diluisci troppo quindi vai oltre il 15% rischi che poi non fare più alcun altro diciamo round perché mediamente i primi 3-4 round quindi il seed round e il round A B e C devono riuscire a far rimanere comunque ai founder almeno il 51% quindi se tu vai a diluire più del 15% su ogni round e tu con i primi 4 round già sei andato fuori del 50% e per cui a quel punto la governance passa in mano ai fondi e non passa più in mano ai founder e quando avviene questo non c'è più fondo che investe su di te passa tutto nel travate quindi diventa tutto un altro discorso e quindi ti blocchi per cui evita di diluire troppo ma fallo per step successivi quindi farne magari una oggi da 300.000 invece di farne oggi da un milione e aver buttato il 40% e ti blocchi però magari quei 300 ti porta ad avere tra un anno un'altra campagna da 2 milioni perché la pre-mani magari ti è salita di tre volte quindi questo è quello che dovete fare come ragionamento e quindi come e quanto posso raccogliere è una media essenzialmente tra quello che è il tuo valore diciamo del need e quello che è la tua diciamo pre-mani valuation e lì capisci quant'è la forbice tra minimo e massimo a cui ti devi posizionare altra cosa fondamentale per non sbagliare devi individuare il profilo target dei tuoi investitori dicevo prima se poi hai un reward vai diretto su quelli che sono i tuoi primi riadoppi cioè quelli che vorranno utilizzare il tuo prodotto perché perché con reward sono pure interessato oltre che a investire ad avere un reward per comprarselo a condizioni vantaggiose quindi fare l'analisi delle buyer personas in una campagna è chiave altra cosa seleziona gli strumenti di comunicazione più corretti per la tua campagna quindi sia parliamo di tutta la parte digitale quindi social media e tutti quelli che possono essere canali digitali ma anche tutti quelli che sono canali magari anche offline perché ce ne sono tanti vi dicevo prima ad esempio tutta la parte di eventi abbiamo campagne che sono nate e si sono mosse magari anche più del 50% su tutta la parte offline perché avendo magari il loro pubblico che potranno vedere quotidianamente su campagne offline e qui utilizzate sempre comunque quando state invece sull'online strumenti di analytics funnel eccetera per tracciare al meglio le conversioni e capire come state andando altra cosa importante è gestire il team perché il team deve essere gestito molto bene perché il team deve condividere con voi tutto quindi da condivisione dei post quindi se avete 30 persone in azienda ogni post tutti e 30 lo ricondividono e questo fa sì che si ampli si aumenti la reach cioè sicuramente molto molto bene in generale e in più dato che tutto il team spesso è coinvolto da domande vengono contattati da LinkedIn da Facebook da investitori dunque si trovano durante quel periodo dovete tutti raccontare le stesse cose quindi dovete essere tutti sempre molto molto allineati cioè l'allineamento del team è uno degli elementi chiave durante il periodo di campagna cosa non fare invece allora prima cosa comunicare male il focus quindi il CEO deve far capire il progetto in maniera impattante in maniera empatica il video che fa deve essere fatto sicuramente a meno molto molto professionale perché si gioca quasi tutto in quel video quindi calcolate quanto è importante altra cosa non pensate sulle numeri cioè alla raccolta perché ci sono tanti altri aspetti chiave vi dicevo prima il fatto che non pensate che se raccogliete tanto di più è andata bene la campagna rischiate che vi siete bloccati con la startup preferisco magari la campagna a bloccarla eccetera il 15 20% al massimo pur di non cedere il 40% ma per il raccolto di più e poi per bloccato comunque le prossime raccolte cosa che vi assicuro è capitata in varie startup che ho visto terzo importantissimo temere la selezione ossia non vi dovete non dovete temere la selezione anzi se vedete che c'è qualcuno più forte di voi è il momento proprio per combattere non per abbattersi quindi ragionate trovate le strategie vincenti e combattete in campagna è importantissimo non dimenticatevi di lasciare fuori l'online o l'offline cioè lavorate sempre su tutte e due perché questo vi serve ad aumentare la reach l'engagement il buzz quello che avviene intorno alla campagna perché ci sono utenti che lavorano molto sui social su determinati canali altri che lavorano magari sui quotidiani pensate a persone che più adulte che invece magari di stare sui social le leggono tutti i giorni il quotidiano magari sono degli ottimi investitori per il vostro target di clientela se non stavate sul quotidiano quelli non sarebbero mai venuti a conoscenza della vostra campagna e così via e poi non pensate mai di puntare ad una raccolta alta tutto viene con il tempo quindi come vi dicevo prima puntate all'esigenza reale non a raccogliere più di quello che vi serve che tanto vi fa solo del male diciamo in determinate circostanze il caso di successo di Startup Italia quello che vi raccontavo prima è stato un caso diciamo da manuale perché è stato veramente quello che hanno fatto è stato top lo scorso anno e chiaramente con tutto il team di Nona Bianca quindi ha lavorato Marco Montemagno e tutto il team e come vedete ha raccolto 2 milioni e 8 lì c'erano chiaramente dentro tutti loro quindi hanno lavorato veramente veramente bene noi ovviamente supportiamo campagne grafandi con noi peraltro ci lavora anche Amica del Francese che molti conoscerete ha seguito più di 20 campagne in questi due anni e peraltro di successo su Mama Crowd su Undercroud Crawford Me campagne anche su Kickstarter per cui possiamo dire insomma che con lui abbiamo un'ottima autorevolezza e riusciamo a dare diciamo un servizio ottimo anche a tutte le startup che seguiamo dico sempre che la distanza fra stagno in realtà si chiama azione perché tutti noi abbiamo delle buone idee tutti noi sappiamo dove le vogliamo portare ma la differenza tra una startup che funziona e una che non funziona è la capacità di execution quella che il team è in grado di declinare per portare un'idea a diventare una startup di successo cioè di idee buone ovviamente se io adesso avessi tutti voi qui davanti e vi dicessi alzare la mano e chiunque ha avuto un'idea dopo un po' di anni che l'hanno rubata penso che alzare tutti la mano e perché? perché sicuramente nessuno è stato in grado in quel momento di avere la capacità corretta di execution per portare quell'idea a diventare una startup di successo o una scale up a tutti i partecipanti ai miei webinar do sempre la possibilità di avere una consulenza gratuita tramite questo link quindi basta vi collegate e potete riceverla e ovviamente ringrazio sempre le villagie per questa disponibilità di questo ciclo di webinar questo è il mio libro che si può acquistare in tutte le librerie o anche su Amazon questo invece è un libro gratuito è il mio secondo libro basta andare su www.grownectia.com che vedete nelle slide si può scaricare gratis sono circa 200 pagine e dentro ci sono contributi di Luca Barboni sul Grothacking e di Michele Francese sul crowdfunding e di Gaetano Romeo sul Limbao Mac insomma Mario Moroni Jacopo Mele Gianluca Comandini abbiamo veramente almeno una quindicina di influenze top che hanno contribuito con me a mettere in piedi quest'opera e l'abbiamo regalata un po' a tutti questi sono i miei riferimenti quindi la mia mail è massimo at grownectia.com peraltro abbiamo fatto il rebranding proprio settimana scorsa del nostro progetto per esempio anche la mia società proprio che l'ho fondata 18 mesi fa si chiamava Connectia e adesso a distanza di 18 mesi stiamo già aprendo 5-6-9 abbiamo inaugurato Brescia e Verona la settimana scorsa adesso stiamo per inaugurare Firenze, Pescara e Milano qui siamo la sede di Roma è quella con cui siamo partiti abbiamo seguito oltre 200 start-up 35 incubate nei percorsi di accelerazione e fatta anche un exit quella di Ariel se tutto in 18 mesi quindi stiamo crescendo molto peraltro a chi interessasse abbiamo anche dei programmi di incubazione di 3 mesi pre-accelerazione di 6 e post-accelerazione quindi proprio di accelerazione vera e propria di traction di 6 tutti i miei contatti li tengo su LinkedIn quindi mi potete aggiungere da lì e vi lascio spazio se avete delle domande mi potete scrivere in chat tranquillamente Antonio eccoci qua allora grazie per le tue parole assolutamente sì riceverete sempre in automatico dalla nostra piattaforma la registrazione del webinar e le slide quindi vi arriverà come sempre in automatico per email tempo tra i 4 giorni che i nostri videomaker la montano e vi arriva peraltro se andate su questo sito www.massimociaglia.me c'è un'area che si è proprio webinar dove ci sono gran parte di tutti i miei webinar pubblici e gratuiti e anche lì potete scaricare il libro altrimenti andate qui su quest'altro sito che è gronecchia.com e trovate anche qua un blog e vari contenuti da scaricare di qua invece su quest'altro sito che pure potrebbe esservi utile trovate anche dei video di 40 minuti l'uno gratuiti da poter seguire sull'utilizzo del canvas eccetera Antonio ci dice io sto partendo una start up e il crowdfunding è lontano ovviamente se stai partendo ora ma quando verrà il momento ci piacerebbe ci fosse una collaborazione professionale con estremo piacere Antonio peraltro vi lascio qui anche la mia mail così per qualsiasi cosa mi potete sempre scrivere ecco qua così avete un po' tutti i riferimenti non so ragazzi se avete altre domande da fare altrimenti io vi libero visto che sono le quasi le 18 Alessandro grazie consigliabile qualche metrica tipo primo fatturato prima del rilascio in crowdfunding oppure si possa partire subito guarda le piattaforme in genere te lo chiedono in Italia quasi tutte un primo fatturato è un posizionamento di mercato quindi assolutamente sì e come dicevo all'inizio l'attraction è uno dei requisiti per andare in crowdfunding quindi se non hai diciamo l'attraction e ovviamente il fatturato la metrica principe per le piattaforme non ti caricano proprio per cui non ti deliberano proprio l'ingrazione in piattaforma per cui assolutamente sì la risposta cosa ne pensi dei club investitori come primo round ottimo guarda l'unica cosa allora se prendi il club di investitori classici quelli come IAG Italia Angels for Growth o altri club investitori Torino quelli un po' più interessanti cioè più noti diciamo che oggi si sono molto istituzionalizzati ossia fino a 3-4 anni fa lavoravano tramite dei rush show continuativi adesso invece hanno diciamo istituzionalizzato anche loro per cui che cosa avviene ad esempio IAG adesso fa solamente due application all'anno in cui porta circa 5-6 start up solo tra le 5-600 che hanno visionato nell'arco dei 6 mesi per cui quello che avviene è che alla fine lavorano quasi come un fondo hanno il loro reparto che fa la parte di analisi lo scouting quindi scouting analisi selection dopodiché c'è il rush show finale di fronte a tutti i soci del club per una volta a semestre quindi diventano un po' quasi un fondo viceversa ci sono degli altri come sono openseed alas non ve ne posso dire tantissimi che ancora lavorano proprio in modalità club quindi sono degli ambienti ancora molto privati poco istituzionalizzati e lì si lavora molto bene proprio per fare il primo round quindi trovi generalmente un investitore mette circa 25.000 che ormai è lo slot tipico e quindi se trovi magari un club deal di 3-4 che entrano insieme porti a casa con i 100k famosi che ti servono per partire poi ci chiede invece Chiara se può mettere il link per la consulenza sì allora è massimociaglia punto youcanbook punto me Alessandro le piattaforme valgono anche candidature di progetti simili che hanno già trattato sì sì assolutamente anzi spesso se hanno avuto una traction positiva di progetti simili vuol dire che quella roba ha tirato ha funzionato per cui non hanno problemi a riproporre magari a distanza di tempo progetti similari quindi quello non è un problema l'importante come dicevo prima è che il progetto similare abbia una UPP differenziante cioè una unique value proposition che sia unica Valentino invece ci chiede quanto si può distribuire in equity in questo primo round col club investitori 10-15 è perfetto esattamente quello sì tu calcola infatti anche quando vai negli incubatori in genere chiedono una percentuale che può variare dal 6 all'8% qualcuno arriva al 10 quando vai chiaramente in un club che chiaramente hanno anche delle dinamiche diverse un 10-15% può andare assolutamente bene quindi corretto non so se avete qualche altra domanda quali sono le varie contropartite agli investitori sono essenzialmente l'equity quindi voi fate un aumento di capitale immagino io una startup è valutata non so 900.000 euro faccio un aumento di capitale di 100.000 la porto a un milione in cambio del 10% vuol dire che loro mettendo quei 100.000 acquisiscono il 10% della startup quindi questo è essenzialmente quello che avviene dai delle quote in cambio di diciamo di denaro chiaro che poi dipende dal tipo di investitore ti può chiedere dei patti parasociali con delle clausole magari anche vincolanti cioè di governance di tag along quindi dipende chi trovi dall'altra parte la maggior parte delle volte chi entra con i classici 25k non ti chiede quasi nulla è rarissimo però ci sono degli investitori invece che si muonono con dei veicoli molto strutturati anche per 25k e ti chiedono anche in quei casi magari dei patti parasociali e pretendono magari anche delle quote di tipo A quindi dipende con chi ha a che fare prego Alessandro bene credo non ci siano altre domande e niente ragazzi allora io ringrazio ancora Le Village ringrazio a voi ovviamente per essere stati presenti anche oggi e ci sentiamo a breve con i prossimi webinar un saluto a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti